Dubitate sempre da coloro che si prendono troppo sul serio, che non ridono mai, che non hanno ironia, che non sono autoironici. Questi signori della sinistra sono fatti così e sono diversi da noi, sono antropologicamente diversi da noi. Tanto noi godiamo nel fare il bene degli altri, tanto appare che loro godano nel vedere gli altri che stanno male e nel fare il male per gli altri. Io ho capito, sapete, perché per esempio la Iervolino era sempre così, posso parlare in inglese? Incazzata. Perché alla mattina, prima di uscire, di andare a presiedere, chissà per fare cosa, la giunta comunale, entrava in bagno e si guardava nello specchio. E chi vedeva? La Iervolino. E si era già rovinata la giornata.